Nicola? Nicola? Che c'è Giovanni? Ma con questo caldo? Non potevi preparare una pasta fredda o un'insanatona mista? Giovanni, ma sei un lamento continuo. Mattia ha bisogno di sali minerali e vitamine e non fanno male certamente neanche a te. Buongiorno. Mattia, ma quante volte ti ho detto di non sbattere il fortuna? Papà, ma questo è il paese del verbo. Fa tutto da solo. Questo è il paese delle lingue lunghe, come la tua che è molto lunga, mocciosa, altro che vero. Ma mamma, ancora su un po' puzzolente di erbaccio. Sono le verdure dell'orto di nonno Gino, mangiali, che ti fanno bene. Dopo avrai la tua cotoletta. Pa, oggi il professore Marnelli ti ha detto che faremo uno straordinario viaggio. Ah sì, e dove intendei portarvi? In Africa. In Africa? E che c'entra? Gli africani che c'entra ora con la scuola? Sì, è venuto un tipo che è molto simpatico che si chiama Edoardo, però il prof lo chiama Eddie e ci ha detto che i ragazzi africani non vedono l'ora di venire a scuola. Ma che si è messo in testa il professor Marnelli? Pensasse a insegnare. Giovanni, ma ti sembra il modo di rivolgerti a Mattia? Sì, sì, va bene, me ne va. Trenetevi l'intellettuale, il professorone. Vedrete che fine faremo, vedrete. Mattia, non prendertela, tuo padre non ce l'ha col professore. È solo che è molto preoccupato. Teme di lasciarti un mondo impossibile. Cerca di comprenderlo. Ragazzi, vi presento Eddie. Lui è il coordinatore della casa famiglia Siamo Tutti Fratelli. Buongiorno professor Marinelli e buongiorno a tutti voi ragazze. Io sono Eddie, un mediatore culturale e vengo da esperienze di volontariate. Ho iniziato sin dalla vostra età. La mia ultima esperienza è stata nel sud della Tanzania. Insieme in questi giorni faremo un progetto con i ragazzi della casa famiglia. Intanto vi faccio vedere il mio ultimo viaggio. Eddi, che cosa ti ha spinto a partire? Prima di tutto dimmi come li chiami. Arianna. Arianna, i motivi della partenza possono essere diversi. La voglia di cambiamento, la ricerca di nuovi stimoli. Io sono partito per curiosità, ma quello che ho trovato a sud della Tanzania è stato fantastico. Ho acquisito una nuova consapevolezza, un nuovo modo di vivere la vita. Eddi, quanti anni hai? È così importante sapere la mia età. Mi vuoi far credere che se fossi stato più anzianotto sarei stato più credibile? No, Eddie, vorrebbero semplicemente chiederti di uscire. Angelo, sei proprio un cretino. E tu sei simpatica come la profuma rana. Angelo, sarei mica geloso del fascino di Eddie? Ragazzi, finalmente ci siamo. Oggi partiamo con il primo laboratorio di cinematografia. Quest'anno ci saranno tre corsi extrascolastici, alla fine dei quali gireremo un cortometraggio. Se ci sono domande o curiosità... Prof, la partecipazione è obbligatoria. Mica siamo costretti. Queste cose mi annoi. No, Angelo, non è obbligatoria la partecipazione. Prof, è io nel cortometraggio che non lo faccio? Ma c'è il truccatore di scena? Galline, non è mica un concorso di bellezza. Di idiota, dai, ripetilo ancora. Ehi ragazzi, calmi. Ruoli, copione, edizione, set, ciac, si gira. Vi sarà spiegato tutto a suo tempo. Ragazzi, come già detto il professor Marinelli, oggi mi toccherà il compito di educarvi al linguaggio cinematografico. Lo so, per voi non è facile stare sul set, però cerchiamo di fare un bel lavoro, di entrare nella parte e soprattutto di memorizzare i dialoghi. Il cinema è un lavoro molto duro, però cerchiamo di viverla tra di noi questa cosa e di farla diventare bella, ok? Ci siamo? Ok, Pietro, ci provo. Azione! Bello questo corso di cinematografia, non trovi? Paolo, se non la smetti di ridermi in faccia, questa battuta non mi uscirà mai. Ok, ok. Scusa, però faccio il serio, giuro. Pietro, ci riprovo. Azione! Paolo, bello questo corso di cinematografia, non trovi? Però ragazzi, aspettate un attimo, dai. Dobbiamo prenderla su serio questa cosa, non possiamo sempre ridere, ok? Ok, scusa, Pietro. Guarda lui. Azione! Ma ti posso chiedere di dove sei? Sì, sono del Tambacunda, nel core del Senegal. E qua è quasi sconosciuta, non ci vengono i turistici, perché d'estate fa caldo, è un caldo insopportabile. Sì, ma domani vuoi venire a pranzo a casa mia? Che ti faccio conoscere i miei genitori. Eh, mia madre è fantastica. No, Mattia, perché mi vergogna troppo? No, no, Sato, domani vieni a casa mia. Ok, Mattia, va bene. Mamma, papà, che profumo di cappettino light. Ridi, ridi. Io alla tua età ero un chiodo, non per il mangiare sana, ma per tutto il lavoro che ho fatto e che tu non farai mai. Pa, domani abbiamo ospiti a pranzo. Ah sì? Sentiamo, chi è che viene a pranzo da noi? Il mio amico senegalese. Chi? Sadik, detto Sada, è il mio amico. Mattia, io non voglio problemi, e non voglio sconosciuti a casa mia. Mattia, sentiamo un po', che cosa potrebbe piacere al tuo amico Sadik? Lasagne? Mamma, sei un mio? Ciao, mamma, ciao, papà. Ciao, buongiorno. Ciao, Sadik, detto Sada. Io sono Nikla, detta Nikla. Buongiorno, signora Nikla. Papà, ti presento Sada. Piazze, Giovanni. Piazze, Sada. Nikla, pronto a queste lasagne? Certo, certo, accomodatevi, per te le vegetariane. Dalle alcane. Hai detto qualche cosa? Tengo fame. Allora, mi raccomando, i piatti puliti, eh. Se no, mi tocca rimpinzare il nostro amico a quattro zampe. L'unico movimento che fa Gustavo è quello dalla ciotola al tappetino. Ma grazie, mamma, se le dai sempre gli scarti delle lasagne, invece di darle i croccandini. Eh. Anzi, papà, invece tu potessi pure tu mangiare i croccandini a posto delle lasagne. Come sei simpatico, Mattia. Come un colbenzinale, eh? Che ti puoi uscire il vetro quando la popola ha fretta. Sada, come ti trovi nei nostri piccoli paesi con la nostra gente? Bene, signora Nikla. All'inizio non capivo la lingua, è stata dura. Ma adesso sono tranquillo. Alla casa e famiglia sono tutti gentili. Ma perché lasciate le vostre famiglie per venire a stare peggio qui che nei vostri paesi? Quando sono andato via dal Senegal avevo solo 13 anni. Il viaggio nel deserto è durato una settimana. Quando sono arrivato in Libia con un amico mio abbiamo chiamato i genitori e ci hanno mandato i soldi e abbiamo pagato la barca per venire in Italia. Mentre che eravamo nella mare arrivano la polizia di Libia e ci prendono e ci portano di nuovo in Libia in prigione. In prigione sono stato tre mesi. E poi una sera abbiamo spaccato la finestra e siamo scappati da là. E io mi sono nascosto sotto una macchina. L'amico mio mentre che veniva da me lo hanno visto. L'hanno sparato qua, morendo vicino a me. Mi ha visto una signora e mi ha chiamato. Però io scappavo perché avevo paura. Perché pensavo che lei mi ritornava di nuovo in prigione. E poi lei mi seguiva. E poi sono fermato. E mi ha presso la signora e mi ha portato a casa. Sono stato due anni e qualche mese con lei. Quando mi davo i soldi io li mettevo a parte perché in Libia c'è la guerra e non volevo stare in Libia. E poi una sera ho chiamato un amico mio che era in Libia e faceva partire le persone per in Italia. L'ho chiamato e ho detto guarda che io vorrei andare in Italia. Come faccio? Mi ha detto proprio stasera dovrebbe partire una barca. Mi ha detto se riesci a venire parti con questa barca. Ho detto allora verso le otto e mezza vengo. Mi ha detto va bene perché la barca deve partire le nove. E sono venuto da lui ma ha fatto parte con questa barca. E poi la barca mentre andava è bucata. Il gommone poteva portare massimo 70 persone. E noi ci hanno fatto andare 116. Siamo arrivati fino all'acqua in Italia. C'era la nave. E poi c'erano le persone che hanno visto la nave. Erano felici e sono alzati in piedi nella barca. E visto quando la nave viene e porta l'acqua pesante. Poi l'acqua ha presso la barca e la barca si è alzata un poco. Tutti quelli che erano in piedi erano tipo 15 persone, 16. Sono caduti nel mare. Tutti sono morti. Tutti sono morti. Chi è Mattia? La Madonna Nera di Pijano. La madonna della Lucania. Per mio pagno è l'unica che può fare le grazie. Perché la stai fissa? perché somiglia mia madre Cari ragazzi, io sono Silvio Silvio Giordano e questo laboratorio servirà a condurvi verso la conoscenza dell'io e dell'altro al di fuori di sé io cercherò di fare dei vostri pensieri, una sorta di amalgama per generare un pensiero critico e fare in modo che si evolvano le vostre virtù perché mi guardate così? Silvio, puoi ripetere a stampatello? ok, allora ragazzi troverete sul desktop delle immagini quelle immagini oggi andremo a manipolarle con un software che si chiama Photoshop quindi preparatevi che iniziamo il professore può uscire un attimo? sì, arrivo tutto Sada, ma che hai fatto? sembra un mostro ma non devi trasformare l'elefante in mucca Mattia, aspetta guarda questo questo è bello è bello forte guarda qualche obera d'arte ragazzi il collaboratore scolastico mi ha comunicato mi ha comunicato purtroppo che non si trova un portatile quindi dobbiamo fare un po' lo sforzo di capire che fine abbia fatto è naturale che ci siano i furti a scuola con tutti gli zingari che sono arrivati in paese no Angelo io non ho parlato di furto io ho detto che manca un portatile dobbiamo fare lo sforzo tutti quanti di sapere dove Silvio, qual è il problema? ci sono zingari dappertutto tutti in ogni due pure in questa classe dimmi Angelo pensi che sia stato io a rubare il pc? sentite anche voi questa pazzia di codina di palle ha bruciacchiato perché c'è Angelo non hai le palle ti tirami in bacia ti fai forte delle risate dei tuoi compagni sai dai come ti devi rilassare se no che f*** ti spacco la faccia no no Angelo no no vedete bene questo corso fa schiena ragazzi volevo comunicarvi che il computer è stato ritrovato ce l'avevi il tecnico per un aggiornamento quindi grazie ecco ragazzi quindi credo che per oggi abbiamo finito e ci vediamo venerdì prossimo Agosto e Paolo ma Angelo perché non viene qui a scuola che fine ha fatto? non lo so prof perché secondo me non pensa che frequenterà più i corsi anche al piccino senza madre anche con una madre molto fragile infatti ha dovuto sostituire molte azioni è affamato di affetto ma non lo vuole ammettere cosa sono questi sassi in forma di rettangoli quadrati Sadam ma sai quanti hanno compiuto questi sassi 22.000 davvero questa villa è venuta allo scoperto quando stavano facendo la rete per il centro olio e il prof Marinelli ci ha detto anche che questa villa è collegata alla strada che si chiama Erculia e arriva fino a Roma ma lo sapevi che i Romani erano un popolo enorme avevano conquistato tutto il mondo a loro conosciuto anche l'Africa settentrionale ma il Senegal non ce l'hanno affatto a conquistarlo beh un'antica credenza dice che i Romani non hanno conquistato l'Africa perché avevano paura dei mostri che c'erano nel deserto ma la verità è che non sopportavano il caldo avevano paura dei morsi dei serpentelli ma come i Romani erano così forti e poi hanno paura dei serpentelli buongiorno ragazzi io sono Giuseppe Misuriello sarò io l'incaricato di accompagnarvi attraverso il terzo laboratorio quello di cucina sono molto felice di essere qui tra voi l'idea di insegnarvi i fondamentali dell'arte culinaria e attraverso le tipicità e le tradizioni culinarie di tanti paesi diversi saremo inondati da colori profumi e sapori ma non perdiamo tempo andiamo in cucina tu sei cari eh? si chef mi hanno detto che avresti voluto frequentare l'alberghiero il mio sogno bene considera che anche io ho fatto degli studi totalmente diversi e poi sono arrivato a ottenere una stella michelin come cuoco quindi continua a seguire i tuoi sogni con la passione e con la tenacia grazie andiamo allora ragazzi oggi vedremo come si prepara una tipica merenda senegalese le banane fritte Sada ci fai vedere come si preparano? si chef intanto accendo il fuoco e lo porto a temperatura d'olio e poi si algo un po' di banane ma non molte mature e le taglio taglio e poi e allora prova di le tolgo si assurdo come mi annoio poi ho trovato un lavoretto faccio roba di volantinaggio potresti fare entrambe le cose guarda non vorrei costringerti a tornare a scuola ma è importante diplomarti per il tuo futuro i ragazzi mi chiedono tutti quanti di te soprattutto eh si lo so professore c'è Domenico che mi chiama tutti i giorni vuole che io torni in realtà non è Domenico è Sada Sada oggi ti ho portato in un posto speciale Mattia perché mi hai portato qui oggi? vieni ti voglio mostrare una cosa Mattia ma questa è la Madonna di Vigiano sì Sada e lei volevo che ti emozionassi di una donna che ha creduto tua madre Mattia sei il mio migliore amico anche tu Sada Mattia e come mai voi pregate così Madonna Santi Dio mamma quanti ne avete avete anche la Madonna nera Sada ma il tuo Dio di che colore è? non lo so ma me lo immagino tutti i colori il mio Dio è un Dio grande uccidono usando il suo nome ma mia madre dice il nostro Dio è Dio dell'amore non Dio della morte beh Sada anche il nostro Dio è Dio dell'amore però certe volte chi dice di amarlo si scorda chi soffre Mattia sono le 5 e mezza alle 6 c'è Juvena dai andiamo ma intanto c'è il CR7 che non li fa capire niente a quelli per lì ammettere sì sì che dici il mio amico che lì vi castinga oggi sì vabbè sti scarzoni Sada ha detto che volevi parlarmi? sì perché non mi andava giù perché a causa mia tu non frequenti più il corso col Silvio allora non sei così stronzo adesso tu e quel pipello di Mattia non penserete mica di cavarvela così su andiamo lì dietro e facciamoci una briscoletta ci stiamo un funcello ciao sbaglio o mi manca un quarto giocatore? sì dai giochiamo insieme o no non vabbè è con il ti no vabbè 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione